Io accuso Ho cominciato a scrivere Io sono popolo nel 2019, quando il populismo e il sovversivismo della classe dirigente erano all'ordine del giorno del dibattito politico e culturale. L'idea mi è venuta attraversando in autobus San Basilio, borgata storica di Roma, rendendovi conto della distanza che c'è tra la gente, il popolo e l'elite che governano. Io sono popolo, io sono colui che vi serve al ristorante, che mette benzina nelle vostre auto, che obbedisce ai vostri comandi e obbediente, fa esattamente ciò che voi volete che faccia, obbedisce. Io sono popolo e pieno di riferimenti e citazioni. Questo documentario ne illustra i contenuti, per capire il senso di quello che accade oggi all'interno delle società occidentali. Quando le gabbie si apriranno e i topi potranno uscire, non sarà riconoscenza quella che manifesteranno. Grazie a tutti.